A breve arriverà la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini dell'inchiesta all'importante a partecipare, l'ennesima sulla ricostruzione post-terremoto. Gli interrogatori sono stati velocissimi e il GIP Gargarella, con il PM titolare dell'inchiesta, la dottoressa Picardi, hanno ascoltato in tempi rapidi 8 delle 15 persone che hanno avuto le misure cautelari. Gli altri 7 sono stati sentiti invece in rogatoria. Per quanto riguarda invece gli indagati, sono i carabinieri del nucleo operativo a portare avanti gli interrogatori. Da parte della Procura dunque sembrerebbe esserci un'accelerazione, dovuta al fatto che le prove immerse finora sembrerebbero abbastanza chiare. E quando si parla di prove ci si riferisce alle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle foto e ai video, che avrebbero verificato ridazioni di denaro e il conseguente sistema corruttivo. Oltre agli interrogati della prima giornata, sono stati ascoltati fracassa della fracassa SRL di Teramo e Alessandra Del Cane, la professionista, sempre di Teramo, che ha avuto l'interdizione del lavoro. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre ha riaspinto completamente tutte le accuse Mauro Lancia, contitolare della Lancia SRL di Pergola. Al centro dell'inchiesta, lo ricordiamo, ci sono gli appalti pubblici della ricostruzione post-terremoto 2009, anche prestigiosi, in alcuni casi gestiti dal MIBAC, come ad esempio quello del Teatro Comunale. Secondo l'accusa, appalti gestiti in maniera assolutamente clientelare, attribuendo a parenti e amici incarichi professionali, alcuni su scelta dell'amministrazione pubblica, altri suggerendo i nomi alle ditte che svolgevano invece i lavori. Alcune ditte si sarebbero così garantite l'assegnazione di gare d'appalto, con ribassi particolarmente cospicui, ottenendo successivamente il recupero attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera.